Nella graduatoria stilata da SVG su un campione di 11.589 maggiorenni residenti in Italia nel periodo 21 febbraio-26 aprile di quest'anno, il presidente della regione Massimiliano Fedriga si piazza al secondo posto con una percentuale di gradimento del 64%. Si conferma in testa la classifica con il 70% dei consensi, un punto in più rispetto allo scorso anno, il presidente della regione Veneto Luca Zaia. Fedriga conserva il punteggio dello scorso anno, Stefano Bonaccini nel 2023 secondo a pari merito con Fedriga perde due punti percentuali e con il 62% scende al terzo posto. Con il 56% dei consensi il presidente della campagna Vincenzo De Luca ottiene il quarto posto guadagnando 7 punti percentuali rispetto al 2023. Fanalino di coda il governatore della Sicilia Renato Schifani con il 27% dei consensi che comunque guadagna un punto rispetto al 2023, preceduto da Francesco Rocca, presidente del Lazio, con il 29%, un punto percentuale in meno rispetto allo scorso anno.